Voi lo sapete, io l'ho sempre detto, i sondaggi non do particolarmente peso, né quando mi danno ultimo né quando mi danno primo. Il sondaggio vero è quello che si farà nel momento elettorale e poi io il sondaggio è quello che faccio tastando la città ogni giorno, cercando di lavorare per la nostra città, per i napoletani e per il riscatto di Napoli. Fa piacere leggere che c'è un apprezzamento, ma devo dire che fa ancora più piacere vedere una città che tra mille difficoltà, senza soldi, si sta riscattando con la volontà dei napoletani. Questo penso che è la soddisfazione più grande per la fine di questo mio mandato.